La domanda che ci dovremmo fare è, ma se Amintore Fanfani non fosse diventato quel Fanfani politico che tutti hanno conosciuto in Italia e all'estero, come pittore, quanto sarebbe stato importante? Avrebbe potuto varcare i confini della notorietà? Io da figlio dico di sì. C'è lo studioso di storia economica, il costituente, il ministro e capo del governo ed infine c'è l'artista, la parte forse meno conosciuta di Amintore Fanfani. Tutto questo è nella mostra dedicata ad una delle figure più significative del Novecento italiano. Lui ci dedicava l'anima. La sera, anche quando tornava dopo Palazzo Chigi, dopo i ministeri, all'ONU nel 65, lui dedicava ore e ore e ore alla pittura, che era il suo vero grande amore. L'esposizione, dal titolo Amintore Fanfani pittore, è stata inaugurata al Museo Civico di Sansepolcro a 25 anni dalla sua scomparsa. Grazie alla concessione, al prestito di un collezionista importante, Silvestri, ma anche della famiglia Fanfani, celebrare i 25 anni della morte, intelligentemente curandosi dell'attività artistica, vuol dire conoscere degli aspetti che forse vengono fuori anche nell'altra frontiera della sua vita, ma che qui vengono emblemati con immagini importanti, nelle quali la spiritualità di Fanfani emerge con tutta la sua forza, passando dalle prime opere, quindi dallo stile figurativo allo stile astratto informale delle ultime. È stata fatta una selezione e soprattutto la mossa si articola in sezioni tematiche, quindi non cronologiche, tanto le didascalie indicano la data, ma soprattutto i temi, quindi nature morte, le madonne, le teste. Esce a una parete divertentissima, preceduta proprio da una sua foto, nell'atto in cui, mentre appunto stavano decidendo per la Costituzione, faceva caricature molto spontanee di tutti i presenti, di tutti i grandi personaggi che hanno fatto la nostra storia della Repubblica Italiana. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 17 marzo. Verrà poi reiterata probabilmente in Senato, probabilmente nel mese di giugno, su proposta del senatore Pierferdinando Casini, il quale sta seguendo e ci sta dando una grossa mano nell'organizzazione di tutti questi eventi.